E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e questo oggi iniziamo una nuova serie che si chiama Una Coppia Tante Sfide Esattamente, è una serie che stavamo pensando già da un po' di tempo di iniziare E ovviamente come si intuisce dal nome, io e il mio caro Steph ci dovremmo sfidare in tantissimi giochi differenti Quindi terremo anche conto del punteggio, giustamente, che ogni volta sarà sempre aggiornato E ci divertiremo a sfidarci in ogni episodio in un gioco diverso Esattamente, per il primo episodio abbiamo scelto Party Panic, che dovrebbe essere un giochino super simpatico Dove ogni volta abbiamo dei minigiochi diversi, tutti divertentissimi e ci è sembrato il gioco perfetto per iniziare questa serie Prima di iniziare, due cosette Prima di tutto, se vi piace questa idea e questo genere di serie, quindi non state a pensare troppo al gioco insieme È proprio una serie dove ogni volta ci saranno cose diverse e cerchiamo di fare davvero cose molto originali Lasciate un bel like per farci sapere che appunto vi piace come idea Come seconda cosa, in alta destra vi mettiamo un sondaggio dove potete votare tra cinque giochi Che potrete votare per il secondo episodio di questa serie Quindi vi facciamo anche scegliere i giochi, è una cosa fantastica Esatto, perché siamo bravissimi Allora, eccoci qua, io e Ferinichi siamo i primi due Io mi chiamo come il mio gatto ed è una coincidenza, cioè non possiamo scegliere il nome Mi chiamo Pepe Guardate, non si può cambiare E io perché mi chiamo Willy, ho un nome da maschio, però va benissimo Sono rosa, ho le orecchie da coniglio E io sono un pirata E ci sta benissimo, Willy Sono troppo felice, allora dobbiamo mettere il ready, siamo pronti? Sì Andiamo Vieni qua Oh mamma mia, sono in un ring Oh mamma mia Allora, picchiamo i bot, perché se la prendono con me? Ma a me spaccano molto la faccia comunque Esatto Come funziona? Perché tu stai facendo tutti quei punti? Dando colpi, tu picchia, picchia E risapura allora Sì, risapura, allora alzati Scusate I botte disgraziati Mi stai facendo malissimo Eh certo, non so neanche quanto ho fatto, era bellissimo Ma perché dura così poco? Io vi giuro, perché voi col microfono lo sentite Sentivo soltanto Tac, 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 tac Era Ferinichi spammando per i tasti per massacrarmi Ma perché è durato così poco? Era fantastico Volevo durarsi di più Per me è durata un'eternità No, il mio minigioco preferito Vedevo solo pugni Ma se è il primo che provi come può essere il tuo preferito? Il preferito lo so già Guarda qua Rista di caramelle Questo mi piace lo stesso Credo che dobbiamo raccogliere caramelle che cadono dal cielo Non è la più fallida idea Comunque puoi anche dare calci, pugni quindi sinceramente Ma quello puoi sempre Non so di cosa si tratterà Vai, vai, vai Ok Dove sono? Ah, devi prendere quelle del tuo colore? Eh, credo di sì No, no, no Devi prendere caramelle Mi sono confuso a vedere non è blu Caramelle Caramelle tutte mie E se picchi uno? Sì Se lo picchi cadono le caramelle di quello Aspetta, no Allora voglio picchiare Vieni qua, tu Vieni qua Io non so neanche quale sei Poi raccogli Niente, io non si capisce nulla Via, via, via Troviamo gemme Io me ne rimango nel mio angolino E mi muovo il più in fretta possibile Devi premere quadrato Ah, scusami Pensavo cerchio Dicevo perché non funziona? Trova gemme Gemme Chi è che hai Se hai permesso a picchiarti? Chi è stato, disgraziato? Chi è stato? Ok, noi abbiamo fatto mille mille E allora picchiamo i bot Andiamo a picchiare i bot A me stanno mastacrando Guarda Andiamo a picchiarli Ok, mille mille Quindi dai Siamo vicini di punteggio benissimo Su, su, su Dice che ogni volta che colpiamo La palla diventa del nostro colore Ok Più tempo rimane del nostro colore E più punti facciamo Questo è complicato Sinceramente non l'ho capito Ah, ok Ah, ok Ok Bim, 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 bim Eh sì, vabbè Se va bene Sì, vabbè Ok Ok, dai, dai Ma questa è una super rissa, ragazzi Questa sì, è una super rissa Guarda a tutti È bellissimo Ma è bellissimo Ma Ma perché è sempre verde? Non è giusto Perché rimane attaccatissimo È un fenomeno quello Sì, sì È davvero bravo il bot Dove sono? Oh, guarda per un sacco di tempo Che bello Dove sono? Sì, sì Non si capisce nulla Ma c'è, ci sono i bot che mi bottano Mi bottano Che mi bloccano Aiuto Datemi un po' di colore anche È diventata rosa per un sacco di tempo Quindi devo aver fatto un bel po' di punteggio Sono molto contenta E infatti guarda, guarda, guarda Ti ho superato anche se di poco Ti ho superato anche se di poco E guarda il bot verde Quanti punteggio ha fatto tutto in una volta C'è incredibile Allora, ammetti che li hai pagati per tenermi lontano Perché è quello che hanno fatto Assolutamente Guarda, sono molto arrabbiato Sono molto dispettoso di questi botti Io ti dico la verità Ti tralciano sempre No A quanto pare dobbiamo prendere delle gemme dal tetto Senza poi cadere in acqua Sinceramente non so cosa aspettarmi Ok, non ho la più po' l'idea di cosa possa essere Ma andiamo Concentrata No, vabbè Io sono già caduto in acqua Allora, questa è una gemma No, dove sono finita? Ok Ok Ma sto continuando a cadere Aspetta Devi curvare bene Non importa quante volte vai in acqua L'importante è prendere gemme Ci giochiamo tutto in questo Perché chi arriva a 4000 punti Vince la prima partita Ok Quindi ci giochiamo tutto Questo verrà un punto Chi arriva a due punti vince Perché facciamo al meglio di tre Quindi adesso chi vince questa Vince il primo round Ok Ok, perfetto Quindi super concentrati andiamo A quanto pare in questo correndo Rendiamo nel nostro colore Le cose Vabbè c'è anche su Roblox Questo mini gioco Esatto Quindi lo conosciamo tutti Vedi? Esatto Bisogna correre Prendiamo tutti questi colori Ma poi gli perdi punti E' certo che li perdi E' per quando finisce la partita Io picchio tutti Disgrazia Ma proprio a me devi picchiare Guarda quanti punti stai facendo Io picchio tutti quelli che ho di fronte No, 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 no No, vattene La mia zona rosa Vattene Stai vincendo di brutto Andatene via tutti No, disgraziato Guarda questo qua Prendi Guarda questo qua Prendi Prendi punteggio Prendi punteggio Non ci credo Andatevene 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 Quanto è stato? Io non capisco No A quanto siamo rimasti? Non l'ho capito Guarda non ho capito chi dei due ha vinto Perché poi alla fine ci siamo levati Cose Vabbè di pochissimo tu Quindi va benissimo Mamma mia Va benissimo Guarda per quanti vinte Ho rischiato tantissimo Sono il re Disgraziato Disgraziato Yeah Praticamente dobbiamo acchiappare le cose del nostro colore E metterle nello scivolo del nostro colore Però puoi sabotare quelle degli avversari Tipo mettendo le bombe e cose del genere No, ti ho visto prendere una bomba Bomba nel tuo Eh oh mi dispiace ma siamo tutti rivali In questa sfida Siamo tutti rivali Guarda ti odio tantissimo Dove sono i miei colori? Miei colori Allora Ma se io metto un colore mio da un altro Sì gli faccio perdere punti Bomba nel giallo Ok ho fatto mille Collect vai Ok Ok di nuovo Ok No l'ha preso al giallo L'ha preso al verde Ok ne ho preso una Ma ne ho prese zero Cioè No mi ha buttato giù il giallo Ok Che disgraziato Ma perché cadono direttamente in acqua? Perché? Non lo so Ok Ok 750 mi è andata malissimo Questo era complicato Io ho recuperato un pochettino Questo era complicato Guarda ti dico la verità Era davvero complicato Lo so che non ho sentito Mamma mia mamma mia 650 sopra di me Ok Avalanche Quindi valanga? Sì Quindi dovremmo schivare una valanga Esatto Wow Andiamo Andiamo Non vedo l'ora Avalanche è il nome di un panino che compro sempre Lo so Super piccante Lo so Andiamo No 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 Devi scendere verso il basso Eh sì Scappa Mi stanno spingendo Vai forza 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 Buttatevi tutti Corri 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 No io forse schiatto Non capisco più nulla Ma Praticamente rimbalzi sulla testa di qualcuno Esatto Quindi devi evitare di caderci sopra Esatto L'ho capito troppo tardi Perché altrimenti Oh no ho sbagliato strada Ho sbagliato strada Ragazzi Se sei morto? Sì Mi dispiace Ma cosa ti dispiace Sei felicissima Lo so Sono felicissima No No pure io Hai fatto mille Ce l'ho fatta Sì Che brava che sono Vedi Potrei scappare da una valanga Ogni volta che voglio Dai Andata 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 Ti dico che abbiamo Una macchina con dei palloncini E bisogna cercare di fare esplodere I palloncini degli avversari Questo è difficile Vedi Allora siamo già troppate Oh mamma mia Sono partita a razzo Perché Perché tu ti contro di me Io mi No Non ci provare No E così impari Stavi spingendo a me E certo Ci dobbiamo spingendo a noi No No Aiuto Facciamo perdere Anche i bot comunque No No Dove resistere No Spingetela Spingetela Andate via Aiuto Spingetela No Prendetela Non mi toccare Vattene Vieni qua Vattene Ok Andata Oh mamma mia Questo era insano Era davvero complicato Perché appena ti toccavano Ti volava via la macchinetta Quindi era difficile gestirla A me l'ho puntato tutti Capito frenare Sì non so perché i bot Sono calizzati contro di te Comunque mi dispiace Non è scampo È tempo di mangiare Uh feeding frenzy Dai dai Sono prontissima È tempo di mangiare Io sono bravo a mangiare Te lo dico Eh lo so Sei davvero un mangione Sei davvero bravissima Allora Sequenza di tasti Pronti Pronti Allora dai Aiuto Dai via Aiuto Ok Ok Il primo mi è capitato semplice Ok No ho sbagliato Ok Ok Vai sto recuperando Ah ho likes che non funziona Aiuto No però sta andando male No 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 Quanto ho fatto Non li ho visti i punteggi Mi sa che abbiamo fatto I stessi punti che hai vinto Come 800 800 Oh ma ho vinto di 50 punti Yeah Picchio tutti Facciamo questa Che ho vinto Parità Quindi spareggio Round per spareggiare Siamo all'ultimo round Qua ci si gioca tutto E iniziamo a pestarci Giusto per far capire Come funzionano le cose Come funzionano le cose Dai Allora Questo è quello Non ho letto qual è Dei colori credo Ok Sì 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 Praticamente chi tiene Quando finisce il tempo Più roba colorata Fa più punti Non toccare le mie Certo Non ti permettere Rubo tutto il tuo Oh oh Quanto No 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 Non mi rubare i miei Non ho capito quanto ho fatto Perché mi confondeva il viola Sei un disgraziato Non usare il mio colore Quanti ne hai fatto? Ah ma te li ho rubati tutti alla fine È stato fantastico Ah Ma questo esiste come gioco Pim Ok Devi semplicemente mirare Sì credo proprio di sì È super difficile Io non ci capisco nulla Ma neanche io Io giro Vado verso il centro E cade sempre da qualche parte È un po' È un po' strano Devo essere sincero È un po' strano Non ci provare Non è la più pallida idea Dove sei? Cioè mi hai finito l'airball Ma non ce n'è più Eh sì ho fatto il massimo E ti butto pure giù Guarda Ma guarda No io non ci credo Questa è guerra Questa è guerra No non c'è nulla da esultare Ti farò passare la voglia Mi sto tremando guarda Eh devi devi Guarda che mi sto tremando guarda 300 punti di vantaggio No 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 Non va bene Balloon Busters È quello dove scoppiano i palloncini Vediamo adesso Quale? Aspetta Quale? Quale dei palloncini con le spine? Non me lo ricordo più Ah ok ok Sì 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 Ho realizzato No questo non mi piace No Perché mi è partito velocissimo Stai attento Stai già partendo male caro mio Stai partendo davvero male No Fammi togliere Vieni qua Allora allontanatemi No 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 Tutti contro Steph No Vai Olè Aiuto Sei un disgraziato No Sei un disgraziato No 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 Aiuto No no Devi perderne uno Devi perderne uno No no Devo recuperare punti Vieni qua No Vieni No 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 aiuto Sì Sei un disgraziato All'ultimo secondo Che mi faceva Guarda c'è il dito tutto rosso Da quale stavo cercando di tenere l'analogico Aiuto Guarda Adesso sono 100 punti di vantaggio E te l'ho detto Mi hai provocato Ed hai sbagliato proprio Ma stai zitto Aia Scusami Sto molto indietro Non l'avevo capito Devo recuperare No 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 Eh sì No Ma dai Era lì Perché Ho guadagnato qualche punticino Sì Sì esatto Però ci giochiamo tutto sull'ultima Perché guarda Sì assolutamente Assolutamente Perché siamo molto simili di punteggio Quindi si gioca a tutto E siamo con la balena No Non dobbiamo farci mangiare dalla balena A me non funziona la X Però dai Non è giusto Proprio sul tasto rotto Ce la giochiamo Ma non è giusto Non è giusto Allora Ci spingo Concentrazione Ci spingo Non ce la farò mai Perché mi funziona davvero male Forza Forza Ci sto facendo le linguazze Io ci provo Ci provo Aiutami Spingimi Aiutami No 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 Destra No destra No Ma pensavo di passarci Non è giusto Non è giusto Anche a me sembrava ci fosse il passaggio Cioè scusami Sì 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 Non è giusto Nel mentre quello lì verde Che è un bot Cioè lui è fermo lì E non viene mangiato Cioè rimanevo fermo pure io Scusami Dai non è giusto Non è Hai barato Hai barato Perché non mi funziona la X Quindi hai barato Hai barato Mamma mia Giusto giusto Per 200 punti Guardami Guardami Non provare a picchiarmi eh Ma dove vado Guarda Dove stai andando Dove sei Sto festeggiando Dove sei Torno a casa Arrivo arrivo Così festeggiamo insieme Dove sei Ciao Festeggia come Non ti voglio Perché hai barato Ok comunque Ci fermiamo così Prima sfida Vinta da me Però Ho vinto proprio Giusto giusto Quindi comunque Non l'avevo proprio Mi ha dato anche il joystick rotto Cioè capito Quanto bara Non fa sembrare I consolini Che sia una cosa mia Ok Questo controller Uno dei due Lo doveva usare È una trappola degli alieni Quindi anche se è nuovo Manchi tutti i tasti No ne avevamo Sì ne abbiamo comprato Giusto uno nuovo Perché costano tantissimo I joystick Davvero Era una cosa assurda Vabbè Uno dei due Doveva capitare Comunque è andata bene Siamo stati lì Capito è stata Esatto è stato bello Molto combattuta Quindi è stato molto divertente Mi sono divertito un sacco E sto giochino è fantastico È davvero È bellissimo Super divertente In ogni caso La seconda sfida Quindi la votrete voi Ma in ogni caso Sarà proprio qualcosa Di molto diverso Cercheremo sempre Di variare Di variare varietà La renderemo Una di quelle serie Un po' di fresh Secondo me Proprio L'hashtag di questa serie È fresh Proprio Perché Kate Ogni volta Tu ti aspetti una cosa Invece no Ce n'è un'altra E poi no Un'altra ancora Poi non lo usavamo da un po' Ma mi sembrava giusto Usarlo per queste sfide Per ragazzi Dove vi cercare di iniziare Senti un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao